Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi voglio iniziare con voi una nuova tipologia di video che ho pensato in vista appunto della gravidanza, perché è una cosa che mi chiedete sempre ho pensato di fare questi video, che sono un po' dei video vlog però in cui io vi parlo principalmente della gravidanza perché io ho sempre un sacco di cose da dirvi, ma voi mi chiedete sempre un sacco di cose e vi aggiorno man mano su tutte le cose perché in tante mi chiedete, dimmi come hai fatto ad esempio a superare le nasce oppure dei consigli, oppure di farvi vedere le cose che compro di farvi sapere tutti i vari aggiornamenti, ad esempio sul sesso che abbiamo scoperto appunto di recente, avete visto il video quindi fatemi sapere se vi piace questa cosa lasciate tanti like e scrivetevelo anche nei commenti così magari io posso anche rispondere alle domande che voi mi fate ad esempio vi posso dare consigli anche sui prodotti contro le smagliature insomma consigliarci a vicenda perché anche voi mi date tanti consigli che veramente mi sono utili e quindi che sia questa rubrica anche per vivere e condividere insieme questi mesi appunto quando compro qualcosa, quando scopro qualcosa di nuovo insomma anche delle emozioni insomma per condividere questa cosa appunto dei vlog gravidanza in cui voglio far vedere anche la pancia come cresce come cambio il modo di vestire insomma come cosa penso del parto naturale il parto cesare, insomma tutte queste cose fatemi sapere tanti pollici insieme, spero che sia un'idea bella inizio col parlarvi vi voglio parlare subito di tutte le novità avete visto il video che ho fatto appunto dove vi ho svelato il sesso che appunto sarà un bambino, un maschetto e vi ringrazio tantissimo per tutti i bellissimi commenti sempre gli auguri e gli apprezzamenti che mi avete fatto sia qui su youtube che su instagram in contemporaneo ho pubblicato anche la notizia dei nuovi gioielli appunto della mia nuva linea mamma e bimbo di cui adesso appunto indosso la collana adoro, me la tolgo più questa è la collana mamma abbinata, io l'ho abbinata alla collana mamma e bimbo e ho anche il bracciale mamma e bimbo adoro, bellissimo e ho anche i miei anelli, i miei orecchini mi piace tutto e quindi vi volevo ringraziare perché questa linea già è quasi tutta soldato l'avete apprezzato tantissimo avete comprato tantissimo poi vi voglio dire la mia reazione al sesso quando ho scoperto questa cosa come l'ho scoperto e tutto perché abbiamo fatto varie epografie eccetera e in effetti io quando intanto mi avete chiesto anche sul nome approfitto per chiedervi qua perché adesso sappiamo che è un maschio ma non sappiamo ancora il nome se avete delle idee vi dico già che il nome che io vorrei dare è un nome che non deve essere diciamo troppo usuale tipo quelli proprio comuni voglio che sia un nome speciale mi faccia pensare solo a lui è un nome anche può essere anche americano spagnolo insomma non per forza italiano ma l'importante è che sia particolare speciale e ancora meglio se abbia proprio un significato bello quindi questa è la cosa ho alcuni nomi che mi piacciono però nessuno proprio perché mi ha colpito al 100% comunque la cosa è questa ragazze io quando ho scoperto questa cosa perché vi ho detto non abbiamo fatto il test genetico e praticamente io ho letto che era tutto a posto innanzitutto che ti dice se ci sono anomalie è la cosa più importante e poi appunto ti dice il sesso questo test è molto costoso però è utile perché tu lo puoi sapere veramente all'inizio della gravidanza e poi se esce appunto negativo che è tutto ok non c'è bisogno di fare l'agnocente infatti io non la dovrò fare perché è uscito tutto qui fortunatamente poi quando ho letto il sesso la cosa bella è che io ero convinta che fosse femmina proprio convintissima che fosse femmina non mi chiedete perché ma io davvero ne ero proprio certo cioè io sentivo proprio che era una femmina infatti a chiunque me lo chiedeva mi dicevo va tanto io lo so che femmina cioè me lo sento che femmina io sono la mamma che meglio di me posso aperlo insomma questi fatti così e poi ahhh non l'ho scoperto più giù no poi se vi ricordate infatti qualcuna me l'ha detto in un video vecchio sia io che Dario avevamo detto tipo mucbag se non ricordo abbiamo detto sta cosa cosa vorresti come primo figlio cosa piacerebbe fare un figlio ne avevamo detto maschio perché in effetti mi piace questa cosa mi è sempre piaciuta questa cosa del figlio maschio comunque che sono mammoni poi questa cosa di avere il figlio maschio più grande nel senso di protezione poi mi piacciono proprio comunque i maschi appunto per non lo so insomma mi piaceva questa idea del figlio maschio però poi quando l'ho saputo quando ho saputo di essere incinta ho sempre sentito dall'inizio che fosse femmina e infatti io vedevo proprio tutte le cose per femmina cioè avevo tutti i nomi memorizzati quelli preferiti per femmina vedevo tutte le cose per femmina quindi ero proprio convinta quando ho detto maschio è stato uno shock perché proprio non me l'aspettavo davvero e quindi diciamo invece Dario è stato felicissimo però è stata veramente veramente una sorpresa però comunque la cosa importante è che comunque sta bene quello importante io poi credo molto nel destino nelle cose vanno come devono andare quindi se è andata così ci sarà un motivo cioè ben preciso sicuramente sarà comunque fantastico e sicuramente sarà stupendo poi dopo quando lo vivrò e quindi insomma non vedo allora comunque ragazze poi vi volevo dire vi volevo dare anche qualche consiglio allora per quanto riguarda le nausee io mi sto trovando molto molto bene con delle gucce a base di zenzero che ho preso in farmacia e io ho sofferto per tantissimo soprattutto adesso stanno un po' calmando ma ai primi mesi ho avuto tantissime nausee che calmavo anche con gli cracker ancora adesso mangio molti cracker io preferisco quelli integrali anche quelli là con riso sofferto sopra veramente vi aiutano tantissimo e per quanto riguarda l'alimentazione io cerco di evitare la verdura cruda quando non sono a casa quindi che non è ben pulita cerco di evitare la carne cruda particolare il maiale quindi non mangio prostito crudo salame queste cose qua e cerco di evitare anche il sushi crudo cotto sì perché io sono proprio una drogata di sushi lo sapete però il sashimi non lo sto mangiando da quando l'ho saputo che poi è capitato una volta che eravamo andata al sushi già incinta ancora non sapevo di esserlo ma ho mangiato sushi vabbè quella è stata la mia ultima volta se l'avessi saputo non avrei mangiato il doppio però vabbè la prima cosa che farò è mangiare tanto tanto sashimi mangiarlo tutto crudo sashimi crudo frutto di mare crudo prosciutto crudo salame tutto dopo il parto e poi volevo dare un po' di consigli per stare in forma perché io leggo sempre i vostri consigli diciamo in questo periodo io ovviamente ho la pancia perché comunque sono in navidanza però per evitare i gonfiori per comunque stare in forma sto continuando a utilizzare i prodotti di food spring e sono prodotti che vi straconsiglio perché veramente vi aiutano tantissimo a stare in forma e c'è un pacchetto che davvero vi voglio consigliare che è il pacchetto di dimagrimento con cui ho visto tantissimi benefici quando l'ho utilizzato appunto alcuni mesi fa davvero unito ad un po' di attività sportiva vi aiuta tantissimo a perdere qualche archiletto quindi in questo periodo proprio prima delle vacanze è una cosa un investimento una spesa che vi consiglio di fare comprende vi faccio vedere lo ship shake al cioccolato che io lo adoro e anche adesso lo prendo perché comunque ho chiesto anche al mio ginecologo un prodotto naturale a base di erbe ed è buono anzi perché mi toglie la voglia di cioccolato quindi la voglia di dolce la voglia di sgarrare quindi ogni tanto ogni tanto sgarro però ogni tanto mi faccio anche questo tipo a merenda a colazione la cosa buona di questi è che accelerano il metabolismo soprattutto se dovete perdere qualche archiletto vi aiutano un sacco sono completamente naturali comunque nel pacchetto viene questo poi ci sono i semi di chia che anche sono ottimi e con questi potete mettere nello yogurt nelle insalate anche questi qua i semi di chia consumati ogni giorno hanno tantissimi benefici per aiutare a dimagrire e accelerare il metabolismo e io vi consiglio di provare il budino di semi di chia trovate la ricetta sempre sul sito foodspring è buonissimo è ad a pochissime calorie ed è veramente molto buono si fa proprio con i semi di chia e sempre nel pacchetto c'è anche la carnitina questa qua ve la straconsiglio soprattutto se vi allenate ed è una cosa che io ho sempre utilizzato adesso non utilizzo perché sono incinta quindi qualsiasi tipo di caps non le prendo quindi queste qua se non siete incinte vanno benissimo sono ottime le ho sempre utilizzate perché la carnitina aiuta tantissimo ad accelerare il metabolismo e a bruciare i grassi quindi vi aiuta un sacco se la prendete prima di allenarvi comunque questo pacchetto è il pacchetto di maglimento che è scontato sul sito foodspring e vi metto anche il link nel box informazione ve lo lascio così cliccate sopra e in più vi lascio il mio codice sconto Carlita Ips non T con cui potrete avere il 15% di sconto su tutto il sito foodspring prodotti veramente se volete perdere qualche chiletto adesso in vista dell'estate sono straconsigliati e io li ho sempre utilizzati ancora adesso insomma quelli che posso utilizzare perché poi chiedo sempre al ginecologo li utilizzo e mi aiutano un sacco e quindi velistra consiglio ragazzi sono oltre sono biologici naturali andate sul sito foodspring comprate con il mio codice sconto Carlita Ips non T veramente sono ottimi questi prodotti e poi cosa altro volevo dirvi ah un altro aggiornamento è anche che noi abbiamo prenotato finalmente la nostra vacanza che l'abbiamo anticipata perché ad agosto io ah mi avete chiesto di quanto sono ve l'avevo detto adesso sono di 17 settimane e poi ad agosto avrò un pancione bello grande è sconsigliato ovviamente prendere l'aereo ad agosto o comunque allontanarsi tantissimo quindi noi abbiamo anticipato la nostra vacanza a giugno quindi partiremo a giugno non vedo l'ora ovviamente voi seguitemi anche su instagram così vedrete tutto e vi devo comprare anzi un bel costume che mi servirà tipo di quella un pezzo non so comunque per donne incinte però aspetto adesso perché adesso la faccio ancora piccola poi dopo rischiere che non rischio che non mi vada più comunque io ho comprato tantissime cose di vestiti ancora non prima man quindi ho comprato cose normali però che vanno bene quindi che potete indossare se siete incinte sia no tipo il vestito che avevo nell'ultimo video quello che ho fatto in cui ho lanciato i palloncini quel vestito è bellissimo adoro l'ho comprato se volete vi faccio il video in cui vi mostro tutti i miei nuovi acquisti mi piacerebbe un sacco farvi questo video dei nuovi acquisti mi piacerebbe farvi il video in cui rispondo proprio alle vostre domande le leggo proprio in diretta e vi rispondo perché ci sono un sacco di cose che mi chiedete sempre e mi piacerebbe parlarvi anche dei prodotti che utilizzo contro le smagliature perché ovviamente è una cosa importantissima ragazze quindi se vi fa piacere magari nel prossimo vlog gravidanza ve ne parlerò ve li mostrerò eccetera e anche i vestiti che ho comprato ho intenzione anche di fare proprio un bell'ordine proprio prima mamma per cose più specifiche tipo ad esempio questa salopette non è non è prima mamma è normale però l'ho presa un po' più larga quindi alla fine mi sta su e e basta poi questi sono i nuovi gioielli adesso vi faccio vedere vi faccio una panoramica così si vedono un po' meglio anche se comunque sono andati a ruba quindi se li volete vi dovete muovere perché veramente sono anche scontati e stanno finendo veramente alla velocità della luce stavolta vi faccio una bella panoramica ve li faccio vedere perché davanti alla lampada non si vede mai un cavolo quindi ve li faccio vedere con la luce naturale allora in effetti i modelli che ho deciso di fare sono diversi questi due io li ho pensati proprio per la festa della mamma quindi li potete regalare magari anche alle vostre mamme sono molto carini uno c'ha scritto I love my mom e c'ha le pietrine in rosa molto elegante molto fine anche per una signora le ho immaginati questo è semplicissimo con le pietre trasparenti mamma e li potete sia indossare voi ad esempio a me piace tantissimo indossare sia questa qua che questa qua che hanno la pietra uguale vedete trasparente quindi sia mamma bimbo che mamma messe insieme anche sono carine quindi questa qua anche se siete incinti se siete in attesa oppure magari ve le regala il vostro marito ve le fate regalare o comunque alla vostra mamma e comunque si può fare in entrambi i casi la cosa bella è di indossarle vi ripeto insieme ad esempio questa con questa oppure ad esempio con questa qua ad esempio questa qua invece c'ha la pietrina rosa questa con la bimba uguale a questa qua quindi potete metterle insieme oppure anche pietre diverse insomma poi vi sbizzarete voi ho fatto completi bracciale e collana vedete su ognuno c'è la scritta carlita ovviamente e sono regolabili la figata questo qua lo potete indossare sia voi che il vostro bimbo proprio come il classico bracciale baby magari la figata indossarlo adesso vuoi il completo quando poi nasce il bimbo questo qua metterò il braccio del bimbo quindi che l'ha tenuto per nove mesi la mamma insomma per quanti mesi poi è anche solo per un mese e poi indossarla lui perché comunque sono regolabili vedete c'è la scritta carlita sono tutti in argento e oro quindi non scambiano e sono regolabili quindi vanno bene comunque a tutti e c'è questo che è il baby bimbo con questa pietra di acqua marina azzurro acqua marina troppo bello collana e bracciale collana e bracciale anche mamma bimbo che questo è quello che avevo io nel video e sono stupendi troppo belli fini e semplici però molto eleganti e poi ci sono quelli con la bimba che io ahimè non potrò indossare ma conserverò ovviamente e sono troppo troppo carini sopra c'è scritto my girl invece qua c'è scritto my boy una piccolissima incisione anche qua stessa cosa la cosa bella è indossarli insieme li potete ad esempio alcune mi hanno chiesto ma io ho più bimbi come faccio allora potreste anche mettere ad esempio una con la mamma ad esempio e anche questa qua indossarli insieme oppure decide di mettere una con la bimba e un'altra con il bimbo quindi anche indossare insieme è bello queste qua invece sono tutte con la bimba vedete bracciale e collana collana mamma bimba bracciale mamma bimba con le pietre invece in bianco sono stupendi e questi invece sono gli anelli oro anche questi ci sono ancora le collane e bracciale questi qua mamma bimbo ragazzi non so se sono rimasti perché veramente stanno finendo minuto dopo minuto finiscono quindi stanno andando a ruba sono anche scontate quindi affrettatevi vedete cosa è rimasto sul sito e ci sono anche questi qua che sono gli anelli vedete che sono bellissimi in oro argento oro e zirconi adoro e io anche questi qua indossavo nel video e anche i cerchi che abbiamo rifornito questa qua la salope so già che me lo chiederete invece l'ho presa da Pull&Bear ed è molto molto comoda è bella larga e comoda mi piace un sacco e invece questa fascia l'ho presa da H&M è un sacco di cose carine ho preso da H&M anche da Zara quindi piacerebbe farvi questo video fatemi sapere e poi non so datemi qualche idea anche di nuovo video perché voi mi chiedete sempre un sacco di cose magari me li segno così ve li ve li faccio e poi niente ragazzi sono troppo troppo felice veramente perché anche voi diciamo che questa cosa del sesso c'è da dire che nessuno aveva indovinato ma neanche le nostre famiglie tutti quanti si aspettavano la femmina voglio dire anche io in primis quindi è stata proprio veramente una scoperta non so perché tutti quanti mi vedevano con una femmina non so perché io tutto rosa tutto anche io ovviamente immaginavo già di indirizzarla al mondo del bio delle creme del beauty dei trucchi di tutto tutto il nostro mondo femminile tutto bellissimo fatto di fiocchetti di roselline invece no invece no e invece no perché praticamente ovviamente è maschietto e quindi dobbiamo comprare tutto azzurro tutto per maschietti e poi la cosa bella che mi ha scritto una ragazza su instagram mi ha scritto io lo sapevo perché questo è l'anno dei maschietti ho detto ho sbagliato anno però no vabbè sono felicissima sto scherzando comunque questi gioielli sono bellissimi vi amo e niente ragazze cos'altro dirvi siamo felici perché allora abbiamo fatto già quante ecografie abbiamo fatto tipo 4 ecografie più o meno si sente il cuore è bello emozionante infatti un pezzo dell'ecografia l'avevo messo anche nel video precedente e adesso quindi sono più o meno nel quinto mese sono 17 settimane quindi è iniziato il quinto mese e e dovrei partorire ad ottobre quindi più o meno queste sono le tempistiche spero di avervi risposto a tutto e il nome non ve lo posso dire ancora perché davvero non l'abbiamo ancora deciso anzi speriamo di avere illuminazione e anche voi se mi volete dare un consiglio è ben accetto e tutte le cose anche che devo comprare datemi dei consigli perché io non ho comprato ancora nulla adesso mi sto ancora soffermando su di me quindi perché comunque giorno dopo giorno non mi va più nulla quindi devo comprare sempre cose e poi vorrei iniziare a comprare qualcosina quindi magari datemi consigli le cose proprio che servono perché non voglio comunque farmi prendere dalla foca e comprare cose che poi non mi serviranno quindi ditemi cosa serve sicuramente consigliatemi qualcosa di buono buoni prodotti a livello di non so di cool di cose buone buone e poche cose ma buone insomma vorrei prendere e utili veramente e poi anche per quanto riguarda voi mi chiedete sempre anche per quanto riguarda l'allattamento il parto quindi magari se vi fa piacere parlare di questi argomenti anche se secondo me bisogna comunque affidarsi alla natura e vedere quello che io spero comunque di fare un parto naturale quindi di anche se spero comunque di non soffrire vabbè è una cosa impossibile però spero comunque di farlo naturale sia per le conseguenze sia per viversi un momento che sicuramente è una cosa bellissima e super emozionante anche per quanto possa essere doloroso quindi questo è il mio modo di vedere le cose e niente ragazzi vi volevo ringraziare abbracciare tantissimo fortissimo ah che poi non lo sapete ma oggi che voi state vedendo questo video io lo sto girando adesso che è 25 ma voi lo state vedendo oggi che è 26 aprile che è anche il mio compleanno quindi è una cosa stupenda il primo compleanno che faccio da incinta quindi è bellissimo e fatemi gli auguri mi raccomando volete sapere quanti anni faccio 25 anni sono scherzo però non si chiede dopo ho superato i 25 anni non si chiede l'età ad una donna quindi mi raccomando non mi chiedete l'età perché lo sapete che io non me la dirò mai vabbè scherzo però comunque non ho più 25 anni ho 25 più 8 anni comunque ragazzi vi mando un bacio tantissimo e fatemi sapere nei commenti tutte le domande che vi ho fatto miliardi di domande vabbè e soprattutto idee per i prossimi video così vi voglio accontentare tutti ciao 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 Grazie a tutti.